... ... 30 a mila 30 a mila 30 a mila 30 a mila io non ho la macchina io non ho la macchina 30 a 14 30 a 14 questi anzi non minacce da parte dei rascolti al culot di graffiarmi e infoccarmi la macchina La ritoria è planiera per loro Forza! Guarda! Io voglio capire la forza tutte le palline stanno lì Guardale! Forza! Forza! Mi piace vincere fatti Su e giù No? Su Forza! Forza! Aspettiamo di giocare Le palline sono tutte le mancano poche seconde da cine eh poche seconde da cine Guarda! Sono dicato! Io posso dire che la cunota la cunota non è una cunota Grazie a tutti.